Glucosi a posto, fegato e reni a posto, conta piastrinica normale, livelli di emoglobina normali, pressione sanguigna 131 su 92. Non è un po' alta. Peso nella norma, le farebbe bene calare un centimetro o due di girovita. Per le feci non risulta niente. Oh. No, intendo che non ci ha portato un campione. Sì, certo, me ne ricorderei. Pensava che profumassero per caso. Lei non ha niente che non va, Martin. Sua moglie mi dice che è lievemente depresso. Mi hanno licenziato, sono disoccupato. Sì, ma non per colpa sua, no? È per questo che sono depresso. Mi accusano di aver detto qualcosa che non ho detto. Provi con il jogging. Ho detto l'esatto opposto di quello di cui mi accusano. A cosa sta lavorando attualmente? Sto pensando di scrivere un libro. Oh, molto bene. Su che argomento? Sulla storia russa. Vada a correre.